Andò, fa caldo! Allora, guardiamo te questo! Andò, fa caldo! E' un sogno che fa caldo! Puoi capire che stiamo qui con i frigoriferi freschi a sale? Capisci prendere pochi di notte stiamo usando un caccio di bagnalone! Signora, siete tutti il frigorifero? Te la devi chiare solo al libretto! Perché non mi chiami? Dittezio Pietro, riparazione frighi, scelle frigorifere e per i vecchi clienti anche consulenza per le bollette, attenzione! Ma signor Pietro, ma sei mi sicuro che non mi faccio dare ambrutatura? e mi hai dato un motore finchia più tante che in bollette! Non fosse sceme che stai! Ma ti non cava la bollette! Chiamami, che ti ha regalato anche una carica di gas! Dittazio Pietro, non perdona! Andò, ma mi fa freddo! Eh, prima fa caldo, ma fa freddo! Ma mi ti dà la maglielana, no? Ma mi hai portato un saluto, ma una gente che ti ha sposato! Ma la terra è fredda con mamma!